Cantieri oggi in Piazza Rinaldi si sta preparando per vestirsi a festa con un assaggio di orti urbani, nuove panchine e nuovo verde in ogni angolo. Un assaggio di primavera anche con i menù e le degustazioni di risotti e prelibatezze a base di fiori. Accadrà nel corso di questo fine settimana per la due giorni di Treviso, fior di città, dove ogni angolo del centro del capoluogo si vestirà a festa anche con mercatini e laboratori di scrittura e scultura. Noi come Borgo Cavour ampliamo la nostra zona in vie laterali tipo via Ricati che porta al Duomo, via Canova che fino al Duomo, fin sopra al Duomo e una novità importante è che quest'anno, visto il successo l'anno scorso, faremo il mercatino già dal sabato pomeriggio fino alla sera alle 11. Tantissimi concorsi con il balcone fiorito, le piazze, via in fiore e ancora i bimbi in festa e le vetrine addobbate a tema. Appuntamento anche con l'artigianato e la musica di Borgo Cavour. Alla fine è solo con le iniziative che si può animare una città. Il Borgo Cavour è l'esempio perché è ormai da 30 anni che organizziamo eventi mensilmente, dall'antiquariato a quello dei fiori, a quello dell'artigianato, quindi abbiamo visto che se organizzi eventi la gente viene volentieri a passeggiare per il centro, altrimenti fa fatica.